Allora, la seconda parte della gem E sarà arrivati alla battuta numero 12, che comunque facciamo un attimo un riepilogo di quello che abbiamo visto finora. Allora provo a risuonare. Allora, dodicesima battuta, avevamo detto nove ottavi, quindi è la, diciamo, la scansione ritmica che mi sembrava più giusta a scriverla, anche se, ripeto, è un brano talmente, come dire, libero di tempo, che è un po' impossibile scriverla perfettamente, però, diciamo, la figura, cioè la figura, la scansione, la suddivisione della battuta la sentite a nove ottavi, quindi fa, pausa, nota, fa, un, terzina, quindi la, suddiesis, fa diesis, fa naturale, sale su, ottavi, dal re, do diesis, si naturale, e arriva a la della tredicesima battuta. Ecco, ripartiamo da qui, quindi di nuovo un quattro quarti, nota ghost, quindi la ghost, mi re, quindi, dalla quarta torna sulla tonica, settima minore, settima maggiore, settima maggiore, può fare slide dal do naturale al si, do naturale si, la, e chiude sulla terza maggiore, la quattordicesima battuta, sulla terza maggiore di me, quindi, suona più o meno così. Qui c'è una battuta di due quarti, almeno io l'ho interpretata in questo modo, e sull'ultimo movimento, cioè la pausa di un ottavo, e poi questo, questa appoggiatura, e sulla terza maggiore di nuovo, quindi riprendo dal fa diesis al sol diesis, poi sul primo movimento della quindicesima battuta, riscritta in quattro quarti, accento sul si naturale, e sol caratteristica, diciamo, la pentatonica minore di me, quindi l'utilizzo della terza minore su un accordo, diciamo, immaginario, di me maggiore. dal si scende, quindi sol fa diesis, mi, do diesis, fa diesis, mi, molto musicale questa frase, poi un'altra battuta ai nove ottavi, parte dal sol diesis, quindi terza maggiore dall'ottava sotto, la naturale a vuoto, almeno io la prendo a vuoto, quindi quarto, quarto, ottavo, si appoggia a la diesis, chiamiamolo così, che si mette un senso ascendente, quindi insomma, più corretto, la battuta ai nove ottavi suona così, quindi si, la diesis, si, slide, diciamo, di nuovo si, e poi arriva al do diesis, quindi un'altra battuta ai quattro quarti, la diciassettesima, la diciassettesima battuta io la sento così, qui ci si può mettere sul secondo ottavo sia una ghost, oppure ci sento un mi a vuoto suonato, diciamo, un po' più fantasma, un po' più nota, non si sente bene se è una ghost o una nota, comunque, io ho scritto la nota tra parentesi, sembra una specie di ghost, appunto, fa do diesis, ghost, re naturale, ghost, due ottavi di re diesis, quindi la settima maggiore, due di mi, quindi la tonica, e poi ho scritto una battuta di tre quarti, la stessa cosa di prima, quindi, dal fa diesis al sol diesis, però ottavo, ottavo, con la legatura, e mi a vuoto, qui parte la frase che ripete sette volte, addirittura, vediamola, allora, siamo alla battuta numero diciannove, quattro quarti, molto lentamente, inizia con, con un'acciaccatura, quindi, la notina piccola, con la, cosino che, col disegnino, diciamo, sbarrata, suona così, quindi, ancora, fa diesis, sol diesis, quindi, è seconda e terza maggiore, qui, fondamentale, dividerla, questa frase, a pezzettini, impararli perfettamente, uno dopo l'altro, e poi comporli insieme, quindi, si appoggia sul si, un po' come prima, appunto, ghost, scende sul fa diesis, ghost, scende sul do diesis, quindi, io prendo tutto sul quarto tasto, diciamo, come dico sempre, da mettere in loop, assolutamente, questa frase, partire lentamente, e la battuta successiva, quindi, è la numero 20, re, quindi, settima minore, due ottavi, due ottavi di re diesis, settima maggiore, mi, ghost, quindi, tutta ottavi, po', sol diesis, mi, a vuoto, tutta ottavi, re, 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 diesis, mi, ghost, sol diesis, mi, tutta insieme, lentamente, viene così, quindi, ripete sei volte, questa identica frase, e alla settima, sono sette in realtà, alla settima, invece di continuare la frase, passo la, quindi, siamo alla battuta 22, la vuoto, come sempre, io la prendo a vuoto, ghost, anche qui, tutta ottavi, la ghost, si, la diesis, la diesis, la diesis, si, si, lo diesis, si, battuta 22, la 23, ancora ottavi, la prima più staccata, fa diesis, fa diesis, mi, fa diesis, mi, poi, sull'ultimo ottavo, c'è un mi, a vuoto, che manda sul, sulla terza maggiore della 24esima battuta, ancora ottavi, ancora, sol diesis, ghost, la, io prendo a vuoto, la diesis, le creatura, si, si, l'ultimo quarto è un do diesis, sento staccato, quindi, venticinquesima, quindi, fa diesis, fa diesis, mi, fa diesis, poi, una pausa di un ottavo, e poi c'è altre due note molto, suonate, una bella dinamica, con l'accento, quindi, siamo sulla settima, sulla sesta maggiore, lo diesis, si, mi, la, la, quindi, il ventisesimo battuta, due ottavi di la, pausa, pausa, si, fa diesis, fa diesis, mi, sol diesis, e poi, torna sulla quinta, passando dal, do diesis, quindi, due ottavi di do diesis, e si, si conclude questa frase, quindi, tutta, più lentamente, poi, battuta 28, inizia un'altra frase, andiamo, un altro pezzettino, poi, mi fermo, e faremo la terza, ghost, mi, a vuoto, quindi, tutti ottavi, ghost, mi, a vuoto, sol naturale, mi, a vuoto, sol diesis, ghost, la, si, la diesis, e quella dopo, quindi, la, sette ottavi, la ventinovesima battuta, sento così, quindi, si, si, do diesis, mi, a vuoto, re, mi, la, lentamente, la trentesima, una delle più, diciamo, complicate, la faccio molto lentamente, c'è un'altra appoggiatura, acciaccatura, insomma, da do diesis a re, quindi, sesta maggiore, settima minore, poi, una terzina, che io prendo con un re a vuoto, quindi, primo ottavo, e sento un re, con la notina prima, la terzina, mi, mi viene più comodo prenderla con un re a vuoto, e a re fa naturale, quindi, una nona, bemolle, riferita a mi, sol diesis, quindi terza maggiore, poi due ottavi, con l'accento, i do diesis, sesta maggiore, nuovo la diesis, fa largo uso, quindi, della quarta aumentata, quindi, la battuta intera, vediamo, e chiude la frase con, si, mi, la diesis, mi, do diesis, mi, si, mi, tutti e ottavi, quindi, la trentaduesima, c'è il la sul primo quarto, poi un la, che lo lascia suonare, fa primi armonici, quindi, sarebbe sul quarto tasto, la corda di la, di re e di sol, quindi, sarebbe come se suonasse un accordo di mi sesta nona, la sesta, la, la nona, appunto, e la quinta, può vedere anche come un do diesis minore settima, con l'undicesima, poi, di nuovo, mi avvuoto, cambia battuta, lo prendo qui, così, mi, continuano a suonare questi, questa volta, però, gli armonici sul nono tasto, sono uguali al quarto, però, almeno, ripeto, continuano a suonarmi questi, questa volta di la e di mi, cioè, le corde di la e di mi, quindi, come note, abbiamo do diesis e so diesis, sempre tenendo il mi a vuoto, quindi, si può vedere come mi sesta nona, mi sesta, mi settima, con la diesis nona, questo è un po' quello che si crea suonando questi armonici qui, allora, qui mi fermo e siamo arrivati più o meno grosso modo, più della metà della gemma e quindi nella terza parte abbiamo tutto il finale, diciamo, di questo meraviglioso brano, quindi allora al prossimo video.